I lavori di messa in sicurezza della collina Sant'Anna e delle zone limitrofe sono stati aggiudicati alla ditta Cruschina SRL. Dopo sei anni di attesa, l'intervento finanziato dalla Protezione Civile prevede un costo di 2,5 milioni di euro, con un risparmio di circa 730 mila euro, grazie ad un ribasso del 37%. I lavori che dovrebbero iniziare entro la fine di settembre mirano a risolvere problemi di frane e smottamenti che hanno colpito 16 famiglie delle zone interessate.